Nel film Il professore cambia scuola c'è un docente di francese che da un prestigioso liceo parigino viene trasferito in periferia, nei bagli. Ecco, qui trova un contesto completamente diverso di ragazzi anche con storie difficili. Ecco, il film invita a riflettere più che sull'insegnamento, sul metodo di insegnamento più giusto per attrarre, attirare l'attenzione dei ragazzi. Ecco, nei tempi di social in cui l'attenzione è frammentata, esiste un metodo più giusto? Io direi che non solo, è un metodo la parola giusto, bisogna farci attenzione, è importante creare modelli di intervento perché i tempi cambiano, noi oggi stiamo facendo un'intervista che andrà sul web, quindi voglio dire ormai bisogna integrare l'educazione anche al virtuale, ma soprattutto bisogna educare chi ha delle situazioni di prestigio e magari mentalmente come questo insegnante si misura con la necessità di andare nelle periferie ad aiutare, ma poi non ci va. Ed è molto bello il film perché lui prova a dire, beh, sarebbe importante che gli insegnanti capaci andassero in queste situazioni periferiche a dare una mano ai ragazzi e il ministero della pubblica istituzione francese lo prende sul serio. Bene, bravo, visto che hai queste intenzioni e capacità perché non ci vai? Ed è lì che lui, che è un bravissimo insegnante, lavora, ha un padre scrittore, una specie di, diremmo ai miei tempi diceva radical chic, no? Si deve misurare col quotidiano di un disagio, di un malessere, di un meticciamento culturale e sociale, di una povertà, di una voglia di non studiare perché lo studio non è un gioco di voti o di competizione, lo studio è il piacere del sapere. Se tu non riesci a passare come insegnante il piacere del sapere, se tu non dai ascolto, accoglienza, rispetto, contenimento, prima di dare nozioni tu non ottieni nessun cambiamento. E lui questo impara andando. Quindi diciamo che è un bello scambio di insegnamento perché le mamlie insegnano all'insegnante, insegnano all'insegnante come bisogna rapportarli agli allievi e c'è un allievo in particolare che fa questo, un giovane ribelle che contrasta, che vive una famiglia in difficoltà, c'è una madre gravemente malata, è un ragazzo di colore. Quindi c'ha tutte le e insegna a lui che cosa si deve fare per andare verso situazioni difficili e il ragazzo da lui apprende che bisogna essere tenaci, bisogna continuare ad andare a scuola per cambiare le cose e questo è un valore enorme. Ma secondo lei esiste, tornando al discorso dei social, un deficit di attenzione dei ragazzi di oggi rispetto magari a generazioni precedenti? Certo, sai perché Paolo? Perché se gli insegnanti non sono esperti delle nuove comunicazioni, non capiscono l'incidenza che il web ha, perché se i ragazzi sanno usare, smanettano e usano il web molto di più di come lo uso io, il risultato finale è che sono loro gli insegnanti, sono loro che sanno di più. Allora gli insegnanti devono, anzi la scuola scusami come istituzione, deve prevedere oltre che nuove materie, educazione alla cittadinanza digitale, educazione all'uso corretto, utile del mondo virtuale e agli insegnanti deve metterli in condizione di capire come si comunica con gente che ha il web a disposizione. Noi stiamo comunicando con gente, magari un'intervista di questo genere la vedono moltissime persone che non la vedrebbero o la seguirebbero se passasse per televisione oppure se fosse soltanto scritta sui giornali. Bisogna integrare vecchi e nuovi mezzi di comunicazione di massa, bisogna educare all'uso di questi strumenti, bisogna fare della comunicazione. Scusate, fatemi chiudere l'intervista in questo modo. Scuola di Palo Alto in California, ma mi pare di ricordare Vaslavic o Vaslavic che dir si voglia, che diceva che ogni disturbo psicologico è un disturbo della comunicazione. Allora se tu correggi il disturbo della comunicazione, correggi il malessere sociale, correggi nel microcosmo familiare come nel macrocosmo sociale, correggi le situazioni. Allora dobbiamo dire ai genitori, ai docenti, agli insegnanti, ai governanti, ai politici che bisogna utilizzare bene la comunicazione, bisogna saper comunicare. Perché chi comunica in maniera corretta, ampia, dettagliata, chiara, chi porta i grandissimi risultati a misura della gente, in pratica l'intellettuale organico gramsciano, qualcosa lo cambia veramente. Volevo chiedere un'altra cosa invece legata al tema multiculturale. In quella scuola di Parigi ci sono appunto all'uni provenienti da diversi paesi del mondo, ecco, anche se differentemente però anche in Italia ci stiamo avvicinando, è una realtà quotidiana, ecco, invece come ci si rapporta anche per favorire l'integrazione già dalla scuola verso studenti che vengono appunto da altri paesi e quindi hanno identità culturali completamente diverse? Gli insegnanti anche in questo caso potrebbero faticare, no? Gli insegnanti in prospettiva faticheranno moltissimo, tant'è vero che, sottolineo, mi provocate, la fabbrica della pace Movimento Bambino Unlus nel Decalogo della Pace mette al sesto e al settimo posto la scuola al centro e dice La scuola di diventare, considerato il meticciamento, il meticciato che avanza, l'integrazione multietnica e culturale, multireligiosa che sta avvenendo in tutti i paesi del mondo, nel nostro poi in particolare, vedi gli sbarchi, vedi? Bisogna che le scuole diventino, e lo dicevamo già negli anni 70, centri culturali polivalenti con biblioteca annesse e polimuseali, con un'equip medico-psicopedagogica in ogni scuola Perché un'equip medico-psicopedagogica? Perché ci puoi mettere assistenti sociali, psicoterapeuti dell'età infantile, antropologi, antropologia e sociologia, come mai ce le siano dimenticate? Se tu vuoi andare incontro a conoscere un altro, non hai l'idea di che patrimonio ha, come fai ad integrarti? Come fai a capire la sciaria se incontri un ragazzino che viene magari da quelle esperienze, da quella religione, da quelle modalità, il rapporto alle donne, il rapporto a Dio? E' importante, quindi ci vogliono educatori spirituali, psicoterapeuti dell'età infantile, assistenti sociali, che lavorino in maniera interdisciplinare e in gruppo E ci vuole la formazione, attenzione, al primo posto nel nostro decalogo della pace, anzi nel nostro decalogo del potere positivo, al primo posto ci sta la formazione dei formatori E' chiaro che loro faticheranno tanto se tu non li formi, oggi bisogna formarsi non più soltanto per la didattica delle materie Il problema non è le materie e i voti, il problema è, ben al di là delle materie e i voti, l'integrazione multietnica, la comunicazione sociale, l'utilizzo dei nuovi media Cioè noi dobbiamo fare i conti con questo cambiamento, se tu non prepari i docenti, la seconda agenzia educativa è la famiglia, o pardon, è la scuola Prima è la famiglia, seconda è la scuola, e ormai la sta bypassando il web, cioè queste due, la prima agenzia educativa diventa il web Quando tu hai una situazione di questo genere, microcosmo familiare e macrocosmo scolastico vengono bypassati E invece non è così, la famiglia e la scuola devono essere messi in grado di gestire questi cambiamenti Formando i genitori, formando gli educatori, sostenendo economicamente e progettualmente con competenze e mezzi economici questo cambiamento Altrimenti, detto fra noi, si potrà soltanto che arretrare E come al solito, le esperienze di cambiamento verranno fatte sulla pelle della gente Con tragedie, con comportamenti di... con violenza Perché se tu non dai questi strumenti, la risposta è sperimentale in tutti i sensi O piena di bontà, di epe, o piena di odio, di rabbia Perché anche l'odio favorisce un tentativo disperato di identità, lo è Io sono quello che odio tutto il male che mi fate E quindi divento un odiatore, divento un... Guardate la violenza che c'è su web Cioè, quello che viene detto, dici una cosa e ci sono cento persone che pur di esistere E per esistere, sì, di Eders Stiamo scrivendo per la Cairo Editore un libro su questo Di Eders Garavaglia mi ha chiesto, Maria Rita, facciamo un libro sugli odiatori Io sto mettendo insieme degli esempi allucinanti di odio Ma odio per qualunque cosa Tu dici, che bello guardare la luna di notte E c'hai diecimila persone che dicono Ma come ti permetti, ma non ti sembra che la luna sia lontana Ma di tutto, di più Perché il problema è esistere contrapponendosi E quando tu hai una società, una famiglia Dove non hai delle autorità autorevoli Che ti guidano e alle quali ti puoi E contrapporre o far riferimento Puoi prendere l'esempio come puoi dire Contesto Quando tu non hai educatori, mediatori culturali La mediazione culturale è fondamentale Dottoressa, le chiedo veramente un'ultima cosa Perché il tema è molto interessante Mi sposto dalla scuola alla famiglia Perché? Perché comunque questi ragazzi portano i cellulari a scuola In Italia c'è una normativa che vieta, che regolamenta Il non utilizzo a scuola Però di fatto questo avviene comunque Maria, segretamente dal professore Un genitore come fa a gestire un bambino Un figlio che passa ore davanti allo smartphone, al tablet In che modo si può arginare questa forma di dipendenza? Paolo mi posso arrabbiare? Cioè 5 minuti di rabbia Anzitutto un genitore deve dare l'esempio Cioè non è che i genitori sono marziani E i bambini di smartphone li trovano per strada Gli smartphone vengono consegnati Allora se io ti do Io ho ragazzini di 18 mesi, 2 anni Che giocano incredibilmente Non sanno chiaramente Né leggere né scrivere Ma già riconoscono e già usano Per cambiare Allora chi consegna questo? I genitori devono essere educati a non consegnare il virtuale in mano ai bambini Non solo Ma i bambini non possono stare ore e ore Perché così si intrattengono dentro casa e li tieni buoni Con il tablet eccetera A giocare No Non si fa Anche perché sono condizionamenti e dipendenze Che poi diventano feroci quanto Noi ancora ci preoccupiamo delle droghe Ci preoccupiamo della cocaina, delle canne Ma perché non ci preoccupiamo della dipendenza del virtuale? Io sono anni che ne parlo Nel 2000 con chat ti amo Poi l'immaginario prigioniero in cui con Cantelmi Con l'Orlando abbiamo detto Signori attenzione Qui cadiamo sotto la rete Poi mi hanno fatto la carta di Alba Con la Ferrero Con la fondazione Ferrero Per dire Signori attenzione Poi è uscito Generazione H nel 2017 Con la PM Stiamo dicendo sempre Attenzione Che non significa negare l'importanza e il valore Del mondo virtuale Del contrario Significa utilizzare in maniera corretta E non dissennata Questo strumento potentissimo Che può globalizzare Che può digitalizzare esperienze Che ci può far fare percorsi rapidissimi Rispetto a lungaggini burocratiche Che può portare esempi da una parte all'altra Ma deve essere gestito Non lo puoi lasciare in mano a chiunque Come è nel sociale Crei le situazioni e poi le abbandoni Attenzione Non puoi mettere un seme E poi lasciare la pianta Che crescerà senza l'acqua E devi fare prevenzione E devi seguire La vera educazione Nasce dalla costanza E dalla presenza continua Dall'accoglienza E dall'ascolto Delle autorità autorevoli Poi la gente si emancipa E diventa autorità autorevole Se tu questo non lo fai Non hai speranza Hai questa società Che non devo fare commenti Nel bene e nel male Questo come direbbe Leibniz È il migliore dei mondi possibili Ma al contempo è Un mondo in cui noi sappiamo Quante carenze Quanti drammi Quante negatività Portiamo ancora dietro Nonostante le esperienze Che sono state fatte In milioni di anni Perché non le utilizziamo Perché noi non utilizziamo Strumenti scientifici e comprovati Esperienze umanistiche Meravigliosi esempi Perché preferiamo di no E si ricomincia sempre da capo Allora io vorrei dare questo segnale Io personalmente Finché avrò fiato Darò questo segnale Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti